ci troviamo a treviso e più precisamente a cadicar resi in occasione di una affascinante mostra collettiva organizzata dalla Dan International Venice Art Gallery dal titolo Art Ambassador. L'artista che abbiamo l'onore di presentare è Andrei Nistor, che si avvale di una tecnica molto particolare anche se conosciuta, anzi una personale interpretazione del surrealismo. Egli rappresenta una sorta di mondo sereno, piacevole, nel quale si riconoscono delle forme, delle figure. Talora possono essere riconoscibili. Altro invece un coagulo di colori. Questa visione si trasforma in una metafora. Il colore diventa personificazione. Grazie. 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 Grazie.